buonissimo ragazzi questo che garamboa una bomba merita un bacio poi non è finita bellissimo ci sono questi due che bomba questa non è finita sono due gioielli fantastici gli diamo un bacio mettiamo insieme gli altri qua è spettacolo ragazzi questo è spettacolo allora ragazzi come andiamo questo bel baciotto tutto nascosto che bella testa una patata il campo super maxi 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 bella ragazzi questo è uno spettacolo vediamo un bacio che bomba è ragazzi faggio mirtillo bel mi piace questa è una bomba dedicato a franco cherabini quello di prima non era un'altezza lo scopriamo bellissimo super allora ragazzi questo porcino è davvero meraviglioso è il più bello della stagione una vera bomba una vera bomba che bomba come dice Brimo Telosi aggettivo libero come dice Brimo Telosi aggettivo libero con gambo dalla musica bomba bomba oh e la musica è bello fresco anche allora intanto chiudiamo il buco e guardate questo è un cuscino per dormire ragazzi qua il bacio va dato se no il bosco si offende ma ma che porcino è qua sono in mezzo chilo e 600 grammi ed è meraviglioso è un pezzo stupendo ciao ciao for